Bentornati a SOS Aghezzo TV, questa sera torniamo a parlare di autismo, abbiamo già parlato delle parole di Beppe Grillo che hanno ferito il mondo dell'autismo e abbiamo incontrato il presidente di Aghezzo Autismo, Andrea Lorenzi, con il quale abbiamo fatto una riflessione anche sulla lontananza che spesso anche le istituzioni locali manifestano nei confronti di chi è più sfortunato. Sentiamo che cosa ci ha detto Andrea Lorenzi. L'autismo e le malattie, le patologie o la diversità neurologica dei nostri figli e di tante persone siano vissute come malattie, come qualcosa da irridere. Ecco, questo è sinceramente inaccettabile. Io mi faccio veramente portavoce umile di tutte le nostre famiglie e in maniera molto ingenua abbiamo anche scritto di getto questa lettera aperta, non perché io voglio, tiro in ballo la deputata, l'amica Chiara Gagliardi che io conosco, eletta del 5 Stelle, anche perché io in maniera molto ingenua, forse appartengo a un altro secolo, ho interpellato quella che è il massimo rappresentante del governo del nostro territorio. Lei è un deputato eletto nel Movimento 5 Stelle, attualmente il Movimento 5 Stelle è una delle due forze di governo e ho chiesto a lei di prendere le distanze, di chiarirci qual è il loro pensiero a riguardo, perché veramente a questo punto, dopo le parole di Grillo che fa questo grande minestrone, siamo un pochino sconvolti. Qui non si parla di tagli, di scelte, di leggi, qui si parla proprio di un approccio completamente diverso, di un salto all'indietro di decenni, in cui si sdogana, come mi sono permesso di dire, il bullismo verso il diverso, in questo caso gli autistici, e io quindi chiedo semplicemente di, prima di parlare, veramente conoscere di cosa si parla, venire nella nostra sede, incontrare le famiglie, sapere che quando si parla di una persona che non capisce non è vero, che quando si parla di queste persone si parla di famiglie che vivono un dolore, vivono una difficoltà che dura tutta la vita, e quindi ci si aspetta che chi governa si occupi delle persone più fragili, non le irrida. Ecco, questo è quello che ci ha ferito più di tutti. Poi, legittimamente, mi dicono sempre, se lui scherzava, lui scherzava, sinceramente, io non ho riso, come tanti altri milioni di italiani non hanno riso, spero soltanto che questo porti a un ravvedimento, perlomeno a un'apertura di dialogo nei confronti di un mondo dell'autismo che purtroppo con queste parole risulta ancora molto sconosciuto ai governanti, questo dobbiamo dirlo, perché se si parla così di autistici non si sa che sono oltre 500.000 le famiglie che hanno questo problema, che hanno una persona così in famiglia, che ne arriveranno delle altre, che ci sono tante cose da conoscere prima di aprire bocca. Questo io spero che sia un segnale, naturalmente questo verrà vissuto politicamente da chi vuole, noi non abbiamo colori politici, siamo noi personalmente un'associazione piccola di cento familiari, però ci sentivamo di esternare questo nostro disagio, oggettivamente. Facciamo decine di iniziative durante l'anno, io purtroppo questa è una cosa che dico, a prescindere da Grillo, facciamo decine di iniziative durante l'anno, noi come tante associazioni. Ecco, al di là del momento per prendersi l'applauso, per tagliare i nastri, vedo pochi rappresentanti delle istituzioni locali, nazionali e regionali partecipare alle nostre attività, alle nostre iniziative. Non perché siamo più bravi, perché facciamo cose molto belle, ma perché sarebbe, secondo me, importante per chi amministra conoscere la realtà dei problemi, prima di prendere decisioni. Più che una risposta mi aspetto veramente una telefonata, una mail, un whatsapp, qualunque modo, e dico, beh, ragazzi, vengo e vi ascolto, e vi ascolto e sento quali sono le vostre situazioni. Questo sarebbe veramente importante. Parole che fanno riflettere, ci auguriamo insomma che al di là della battutaccia di Grillo, almeno questo episodio sia servito per accendere i riflettori ancora su un mondo, troppo spesso trascurato. Un abbraccio ovviamente ad Andrea Lorenzi e alle famiglie che vivono questa situazione anche spesso di solitudine. Ci vediamo domani.